eccomi qua ragazzi massimo l'intervista e pasqua oggi e quindi buona pasqua a tutti le vigili anche l'inter impoli domani sarà ammessa 20 e 45 chiaramente presente come sempre allora però prima parliamo di un'altra cosa ragazzi di quello che è successo gli epodi con i poeti di 5 partite torino monza 1 a 0 genoa posione 1 1 e poi su tutte diciamo napoli a tanante napoli di vangelo becca tre gol ho avuto come dice chiaramente per van jesus poi ho visto anche lazio juventus 0 1 fino alla fine l'ho vista ho avuto come dice anche lì praticamente music che nel finale aprile ha finito praticamente fa 1 a 0 e poi è mancata chiaramente la ciliegina a firenze dove il minato a vincere una 2 a 1 a firenze con questa vittoria qua il minato di certifica la qualificazione la prossima champion nel senso non me lo vogliono rossone non voglio preoccuparla però penso che sia così o mai cosa fatta poi c'è anche la con la conference l'europa league dove bigufferò chiaramente rossonei però dovessero vincere l'europa league andando alla prossima sempre come testa di sé come scuola di prima fascia mentre quando guarda il napoli il napoli con cosa sconfitto come lo certificano praticamente la mancata qualificazione secondo me penso non c'è mente da fare per il napoli per la champion per l'anno prossimo e secondo me sono stati entro rischi anche l'innovazione dell'europa se compresi che lo pari deve cambiare marcia e poi guarda monitorare secondo me è la juve gas e la juve che adesso a 59 punti è vero è al terzo posto in una posizione di campo ci mancherebbe alto però a vedere il ruolino di marcia che ha avuto adesso un ruolino praticamente la serie b noi partite sette punti e pochissima roba quindi almeno me è a rischio deve stare attenta deve cambiare proprio ritmo e chiaro che dovessero uscire i big ufo chiaramente bianco neve cosa devo fare penso che la cosa reciproca che ho più di bufano fino fino alla fine fino alla fine e attendono partiti importanti già la domenica a firenze avete la vita la roma avete il derby avete un po le partite difficili diciamo perché attenzione perché se la roma sia la roma che il bologna dovesse vincere domani bologna contro la militana la roma va a lecce contro il lecce partita è più difficile quella perché lecce deve salvarsi dovessero vincere bologna dopo due punti da voi e la roma cinque punti attenzione alla tante che attualmente e noi punti da voi però anche loro hanno avuto da recuperare forse devo incontrarli non volete una capo se avete anche la tante della fine non vuoi dire una cavolata quindi potrebbe andare a sei punti rilatante deve essere attenti perché come la juve sta rischiando è un po bloccata c'è da dire che è stata l'unica l'unica antagonistica l'inter perché è stata quella per qualche periodo vicino a noi mi ricordo tutto diretto da meno uno poi l'avete perso basta la siete date un po un po in gallina diciamo ma detto questo è una situazione come da un monitoraggio potrebbe diventare interessante io chiaramente ripeto bufaro fino alla fine e detto questo parliamo un attimo di inter velocissimo perché sui dice poco a dire ragazzi perché ormai si attende solo di sapere quale sarà la partita scudetto incontriamo chiaramente un empoli che per non perdere sicuramente perché è in piena bagarre processione quindi saranno stimolatissimi a differenza nostra che dovremmo trovare stimoli un inter che su questo campionato non voglio dire come niente a dire ma poco si tratta semplicemente di capire quando sarà il giorno esatto per vincere lo scudetto nel frattempo bisogna stimolarsi ragazzi e lo stimolo quale potrebbe essere lo sapete tutti se mina vincere vincere anche noi perché dobbiamo arrivare lo scudo diretto e magari vincendo il derby si potrebbe vincere anche lo scudetto il ventesimo scudetto la seconda tele sebbe tanta tanta roba non oso immaginare che festa ammeazza che boato e poi vecchia mente da lì poi tutti in una festeggiare ad una festeggiare no bisogna come dire domani vedere se sarà baro simone a stimolare ragazzi e la formazione sarà la classica somme che recuperiamo i tre di tre saranno bastoni acerbi pavard il 500 campo a sinistra di marco a destra domani a do mezzare come sempre mkhitaryan baller la città campista c'erano le due punte turam e il capo canoniere il bomber il capitano la tavo martinez niente una cosa che potrei aggiungere quella magari di vedere qualche giocatore nuovo nel senso per vedere i più frattesi e carlos augusto carlos augusto adesso entra in fortuna e vero possono due giocatori che l'ho vista abbastanza per dire che sono da inter con da inter la stessa cosa nonostante si è visto un po meno e bisse che secondo me è quello che ha avuto il margine di crescita più ampio da quando all'inter io mi ricordo nelle partite estive non mi sembrava così forte ma con un po acerbo poi ho visto anche l'ammeazza contro il monza ultimi minuti non mi era piaciuto moltissimo proprio da lì in poi quando si vanno arrivati in causa per giocare ha sempre fatto non bene ma benissimo segnando e facendo segnare ma su tutti quello che vorrei vedere è lui Buchanan perché ho visto pochissimo per quello che l'ho visto che l'ho visto sembra un giocatore forse anche un pochettino acerbo per la serie A però ha di ottime prospettive vorrei vedere di più lui da qui a fine campionato e da aggiungere un altro ragazzi cioè Sanchez meno lo vedo meglio è Alnautovic intercompatate diventa anche Sensi domani ma se non lo vedo fa niente e cosa dire ragazzi prepariamoci nel finale stagione con intercampione ci ritroveremo poi chiaramente tutti andiamo a festeggiare e perché no prendiamo in giro anche un po' i gruppi giustamente ragazzi detto questo forza entra al massimo l'intervista e è l'obbio forza entra al massimo l'intervista grazie a tutti